Alla fine tanto tono che piove, nel senso che sono 11 mesi che come zone cerchiamo di avere un'interlocuzione con l'assessore Bezzini per capire a questo punto se anche si è fatto una minima idea sulle modalità di risoluzione di alcune problematiche molto annose, molto complicate che riguardano il sistema di emergenza e urgenza e il trasporto sociale e nel frattempo il problema è obiettivamente esploso. Hanno così preso carta e penna e hanno scritto una lettera al presidente della regione Eugenio Gianni, in calce quattro firme, quella di Lucia Tanti, presidente della zona sociosanitaria retina, Fabrizio Innocenti, presidente invece della zona valtiberina, Luciano Meoni di quella della Valdichiana e Filippo Vagnoli, presidente della zona sociosanitaria casentinese e da poco vicepresidente della conferenza dei sindaci dell'Asla Toscana Sud-Est. Riteniamo che debbano essere fatte due cose per cominciare. La prima è ristabilire la parte dedicata ai rimborsi che sono per il chilometraggio, che sono attardati perché mi pare che risalgono al 2011. La seconda cosa che chiediamo, da un punto di vista numerico anche definita, è un passaggio di rimborso da 110.000 euro circa annui per quanto riguarda una PET, che è un'ambulanza equipaggiata H24, ha uno step di 23.000 euro all'anno nel 2025 con un passaggio nel 2023 immediato di 240.000 euro all'anno. Sono due richieste che riteniamo essere il minimo sindacale per rimettere in moto la macchina e soprattutto non lasciare nessuno a piedi in situazioni di emergenza. Dopodiché chiediamo insieme, compartecipando anche noi, di capire che fine fa il trasporto sociale, come possiamo collaborare per renderlo più efficace, per non lasciare anche qui sacche di bisogno al palo, perché come un malato oncologico, come un malato dializzato, come un qualsiasi malato raggiunge cure fondamentali in malattie croniche, fa parte della civiltà con cui uno si pone di fronte alle persone.